Dopo la requisitore dei pubblici ministeri con le richieste di 54 condanne per oltre sei secoli di carcere riprendono le odienze. Stamattina c'è stata la terza consecutiva dedicate alle arringhe dei difensori degli imputati del troncone abbreviato dell'inchiesta antimafia Montagna che il 22 gennaio dell'anno scorso ha fatto finire in carcere presunti mafiose e distorsori di un ampio versante della provincia di Grigento. Nell'aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo sono state discusse le posizioni di Raffaele Fragapane, Salvatore Lagreca, Roberto Lampasona, Concetto Enrico e Carmelo Battaglia. L'avvocato Giuseppe Barba è in particolare difensore di Fragapane, 41enne, cugino del presunto capo del mandamento Francesco Fragapane di Santa Elisabetta ha sottolineato l'insussistenza del quadro indiziario sancita anche dalla Cassazione. Fragapane è accusato di essere un componente della cosca di Santa Elisabetta. Nei suoi confronti i pubblici ministeri hanno chiesto la condanna a 11 anni di reclusione per le accuse di associazione mafiosa e distorsione. Il suo arresto è stato annullato due volte, una prima volta per un vizio di forma, secondo gli esami il GIP avrebbe scarsamente motivato la richiesta del PM e la seconda per una valutazione sul quadro indiziario ritenuto assai poco consistente, come ha ricordato l'avvocato Barba. Il difensore ha sottolineato anche che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giuseppe Quaranta di Favara che di Francesco Fragapane sarebbe stato il braccio destro per un periodo sono contraddittori e inattendibili.